This is a long, sigla! Allora, oggi voglio parlare della prima puntata di una serie che è appena iniziata e la potete guardare in esclusiva su Sky e in streaming solo su Nao ed è The Penguin, che è una delle cose che aspettavo di più in assoluto quest'anno. La serie che è collegata a The Batman e che si concentra sul personaggio di Pinguino, Oz Cobb, che è interpretato da Colin Farrell, che era stato fantastico in The Batman e sinceramente non vedevo l'ora perché i trailer mi facevano pensare ai Soprano. L'atmosfera mi sembrava quella, quindi non vedevo l'ora di guardarla e ovviamente ambientata a Gotham City. Ho visto il primo episodio, peraltro l'ho potuto guardare con calma perché comunque l'ho visto in anteprima. Tra l'altro sono contentissimo che Sky mi abbia chiesto di collaborare per questo video, quindi lo faccio molto volentieri anche perché per ora quello che ho visto è spettacolare. Addirittura vi posso dire che mi hanno mandato in anteprima tutte e otto le puntate, ma non ho voluto guardare tutta la stagione perché mi piacerebbe fare i video settimana dopo settimana, avevo voglia di anche farmela durare, non volevo guardarla tutta insieme, non volevo bingiarla, per cui pur avendo le puntate sotto mano ho deciso di aspettare perché mi andava bene così. E devo dire che la Gotham City di questa serie è la stessa di The Batman, assolutamente, però secondo me è ancora più protagonista sotto certi punti di vista perché se è vero che in The Batman la vedevamo molto bene perché comunque Batman si muoveva anche nei bassifondi, qui abbiamo il punto di vista di un criminale perché il pinguino è il protagonista. Quindi Gotham City viene vissuta proprio dal punto di vista della criminalità e questo la rende ancora più tentacolare, è un po' più luminosa perché ci sono tante scene di giorno, mentre invece The Batman prevalentemente avevamo scene notturne, c'erano anche scene diurne certo, però qui ci fanno vedere questa Gotham City spesso di giorno ed è interessante perché a me è parsa ancora più degradata con la luce del sole rispetto a quando cara la notte. Perché vedi proprio quali sono i problemi, vedi la miseria per le strade, la microcriminalità, perché comunque c'è anche questo. E questo primo episodio mi ha colpito moltissimo in primo luogo perché Colin Farrell è fantastico, perché un conto è vedere il pinguino nel film come comprimario perché non era neanche il villain principale, tra l'altro era un pinguino ancora tra virgolette alle prime armi, non proprio perché comunque erano anni che era criminale a Gotham, però non era ancora il pinguino boss del crimine che conosciamo tutti dai fumetti. È un pinguino in ascesa e questa serie parla proprio dell'ascesa del pinguino. Quindi lo vediamo che cerca di arrabattarsi con il vuoto di potere nella criminalità di Gotham che si è andato a creare dopo la morte di Carmine Falcone avvenuta in The Batman. E quindi vediamo questo pinguino che deve cercare di capire come fare a prendere il potere. Ovviamente non può semplicemente decidere che lui diventerà il capo supremo della criminalità di Gotham. Ovviamente deve organizzare questa scalata al potere. E a me questa cosa è piaciuta perché il primo episodio è riuscito a introdurre dei personaggi interessantissimi che mi viene assolutamente voglia di conoscere. Tra l'altro io mi chiedevo, può funzionare una cosa del genere? Perché comunque negli ultimi anni abbiamo assistito al tentativo di portare brand cinematografici in televisione. E la paura è sempre che queste serie sembrino dei film allungati perché spesso e volentieri capita anche che magari fossero progetti cinematografici che sono stati poi convertiti in serie televisive. È capitato spesso con certi franchise. Però il punto qual è? È che questa serie sembra una serie. Cioè il primo episodio ti introduce i personaggi e poi ha un finale che ti fa capire che sta iniziando qualcosa più grosso che si godrà puntata dopo puntata. Già questa cosa l'ho apprezzata molto perché comunque è bello perché è una serie e secondo me deve avere le connotazioni di una serie. Poi a livello tecnico veramente eccezionale. Ci sono dei momenti in cui la regia è secondo me gestita benissimo, devo dire, con anche delle prime sequenze interessanti. Ci sono un paio di scene che secondo me sono eccezionali perché è una serie, e questo non me l'aspettavo, che è pregna di una black humor, di un'ironia quasi macabra in alcuni momenti, che mi ha sorpreso. E quindi la regia valorizza questi momenti. C'è una scena in particolare che a me ha fatto ammazzare da ridere anche se nel momento non c'era niente da ridere. Perché è fantastico come Colin Farrell interpreta il pinguino, perché comunque tu lo vedi sempre così in un certo senso. È strano perché è un criminale fatto e finito. Cioè è una persona poco raccomandabile fin dall'aspetto con questo make-up che lo stesso attore ha detto che è stato un incubo dover rifare ogni volta questo mascherone. Insomma, lui ha detto che è stata un'esperienza traumatica da quel punto di vista, perché comunque doveva stare ora e era al trucco fin dal mattino presto, poi andava sul set, doveva girare tutto il giorno con questo ingombro. Non deve essere una cosa semplice. Però lui è fantastico perché, per quanto sia criminale fatto e finito anche nell'aspetto, comunque il pinguino è sempre stato come personaggio contraddistinto da una certa eleganza. E per qualche motivo Colin Farrell, nonostante lo interpreti come quello che è, cioè una persona che non si fa scrupoli a uccidere, a truffare, a fare le cose peggiori, ha sempre questo fondo di eleganza, anche se ancora non è il pinguino in frac, ok? Ovviamente è una reinterpretazione più contemporanea, più in linea con il gusto moderno, però questa cosa si percepisce tanto, cioè si vede che c'è stato uno studio per quanto riguarda l'interpretazione e soprattutto è un personaggio estremamente carismatico. Cioè quando hanno annunciato la serie io ero contento perché a me il pinguino in The Batman era piaciuto un sacco, ma non era particolarmente esplorato, perché comunque era un personaggio secondario in quel contesto, ma si capiva che poteva dare di più e che doveva dare di più, quindi ho apprezzato questo primo episodio proprio per questo, perché comunque vediamo lui che per l'appunto cerca di inserirsi, ma gli sbarano la strada, perché ad esempio c'è il personaggio di Sofia Falcone che è interpretata da Cristi Miglioti, che è un'attrice che io adoro, che mi piacerebbe vedere molto di più di quanto non accada. Da lavoro, perché non è che non lavori, poi aveva partecipato qualche anno fa anche a Palm Springs, che era questo film con Andy Samberg, che comunque era stato un piccolo caso, perché era un filmetto comico che però era stato visto molto, anche in Italia, era piaciuto molto, era molto carino, era una cosa alla ricomincio da capo, se capite cosa intendo, con il loop temporale che non si capiva bene perché si attivava, insomma una cosa molto carina. Lei brava, poi vabbè lei è emersa con How I Met Your Mother, era anche in The Wolf of the Street, interpretava la prima moglie di Jordan Belfort, quando ancora non era ricco. È una bravissima attrice e qua secondo me interpreta un personaggio straordinario, perché Sofia Falcone non è semplicemente la figlia di Carmine Falcone, è anche completamente pazza e anche dal trailer scopriamo che lei è stata ad Arkham ed è uscita da poco, proprio in cocomitanza con la morte del padre. E questo è interessante perché questo personaggio serve, in questa puntata, a farti capire quanto è subdolo il pinguino. Perché Oz è un personaggio sicuramente complesso, per ora ci fanno vedere il suo lato più violento, ma anche quello caparbio. perché poi introducono questo personaggio, questo Victor, Vic, che non sono io giuro, questo personaggio che è particolare, che è una sorta di aiutante, una sorta di suo sottoposto, si conoscono, adesso non vi dico niente, però si conoscono in un contesto anche un po' particolare e questo personaggio ha fatto, diciamo, porre delle domande a tante persone. Perché effettivamente, fin da quando è uscito il trailer in cui si vede questo personaggio, la gente ha iniziato a chiedersi, ma non è che questo è il futuro Robin? Qualcuno ha detto, ma non c'è, ma si chiama Victor. A parte che potrebbe anche essere un nome che lui si è inventato perché non vuole dire la sua vera identità, per motivi vari, ma al di là di questo, onestamente io, cioè, non è che avrei problemi se fosse un Robin inventato di sana pianta, cioè, sinceramente, se non è Dick Grayson, Jason Todd, Damian Wayne, tutti i Robin possibili e immaginabili, francamente non me ne fregherebbe nulla. Però io non credo sia Robin. Secondo me è un personaggio che ha un'altra funzione, perché comunque Victor ha la funzione di, innanzitutto, diventare una sorta di allievo del pinguino, no? Perché comunque lui sembra che si cresca a questo ragazzino per crearlo un po' a sua immagine e somiglianza, diciamo. Cioè, è come se lui in quel momento avesse bisogno di una connessione, perché lui non si può fidare di nessuno. La situazione è tesa. Gli occhi sono puntati su di lui perché è noto per essere una rivista e quindi un po' tutti si aspettano che lui faccia qualcosa. E infatti sta facendo qualcosa. Ma è bello il modo in cui lo sta facendo, perché comunque lui te lo mostra come una persona di cui gli altri criminali non hanno stima. Lui passa un po' come per uno quello inaffidabile, quello un po' coglione, quello che sicuramente farà qualche cazzata. Però nessuno si aspetta che sappia essere così tanto subdolo, perché a un certo punto nella puntata succede un qualcosa che a me ha anche sorpreso, ve lo dirò nella parte spoiler. Però da quel punto di vista, secondo me, hanno veramente architettato tutto benissimo. E non è una cosa che si risolve in questa puntata, è l'inizio. È ciò che farà partire il motore della trama. Quindi è una serie che fin dal principio ti inserisce anche l'intrigo. Parlando di criminalità, alla fine, io prima ho citato i Soprano, quella roba lì. Nei Soprano a un certo punto c'erano i tradimenti, quello che tradiva quell'altro lo vendeva all'FBI oppure lo vendeva ad un'altra famiglia. C'erano tutti questi intrighi, ma la cosa geniale dei Soprano era che in mezzo ci ficavano anche la vita familiare di Tony Soprano. Era una serie che parlava delle due famiglie di Tony Soprano. La famiglia moglie e figli, la famiglia mafiosa e in mezzo a questo c'era lui che si arrabbattava con delle sedute di psicoterapia. Una cosa, per l'epoca, assolutamente innovativa. Il Soprano ce li ho rivisti in questa prima puntata. Perché? Soprattutto per il fatto che Il Soprano era una serie che riusciva a farti sorridere con un umorismo cattivissimo, molto spesso. Qua è la stessa cosa. Cioè, c'è quell'idea dell'intrigo, ma c'è anche l'idea del farti ridere di alcune cose, di alcune situazioni. Poi ci sono delle scene che sono serissime. Il personaggio di Soffri Falcone è serio dall'inizio alla fine in questa puntata ed è anche estremamente pericoloso. Perché sono stati bravi, è stata brava la Miglioti, quello assolutamente, però sono stati bravi a scrivere il personaggio in modo che sia pericolosa. Ti fanno capire che, cioè ti dicono che è stata Darkham, ti dicono che è pazza, però per tutto il tempo tu dici, ma questa non sembra così tanto pazza. Poi arriva un momento in cui dici, ah, e allora forse se è stata Darkham un motivo ci sarà, mettiamola così. Penso di averlo appena intravisto, tra l'altro. Quindi da questo punto di vista, io sono molto, sono molto contento perché è quello che avrei voluto. Io volevo qualcosa che mi mettesse anche un po' di voglia di teorizzare cosa potrebbe succedere in futuro. Adesso è difficile perché si sono appena gettati i presupposti, per l'amor del cielo. Però non mi dispiace perché poi ci sono altri personaggi, l'avete visto anche nel trailer, c'è Salvatore Maroni. Cioè c'è la scena con Maroni che i ragazzi è, uh, è qualcosa di, è bellissima, è il modo in cui si comporta Oz con lui, il modo in cui risponde Maroni, perché lì ti fanno capire il perché le persone non si fidano effettivamente del pinguino. Non è che non si fidano a caso, c'è un motivo specifico. Tra l'altro, io non so come mai, i personaggi di sì hanno sempre problemi con le mamme. E un personaggio che mi sembra parecchio importante, almeno da quello che ci sta facendo vedere, è il personaggio della madre. E soprattutto sono stati bravi perché il rapporto che lui ha con la madre potrebbe essere fraintendibile. E secondo me è girata benissimo la scena in cui mettono in chiaro che tipo di rapporto hanno. Perché la macchina da presa segue il pinguino, si ferma sulla signora, ti fa vedere questa casa, che è proprio la classica da vecchia signora, lei è questa matrona che stravede per il figlio. E poi, pam! Sceleggiatura, regia, colonna sonora, tutto concorre in quel momento a darti la sorpresa. E io ero lì che me la ridevo perché dicevo, beh, questa cosa è geniale, a me piaceva tantissimo quello che stavo vedendo, il modo in cui si comportavano. Secondo me è una serie che per il momento mi sembra avere ottime interpretazioni, che questa forse è una delle cose più importanti. Una buonissimo lato tecnico, la fotografia che rende questa Gotham ancora più spettrale in un certo senso. Una fotografia, lo dico, diversa da quella che avevamo abituati per The Batman. È molto diversa come fotografia. Ed è questo che mi piace, il fatto che le atmosfere alla The Batman ci sono, ma poi è una serie che ha una sua identità ben precisa. è derivativa da The Batman, è spin-off di quel film, ma poi ha un suo modo di essere girata, ha una sua atmosfera che è quella ma con qualcosa in più, una fotografia diversa perché non è The Batman, è The Penguin, quindi bisognava dargli una caratterizzazione al tutto che fosse proprio della serie. E quindi, propria della serie, quindi per me e questo primo episodio è una bomba. e poi si parla della Drops che è una sostanza, una droga che nei fumetti di Batman ricorre spesso. Qui la stanno usando quasi, non dico che è McGuffin, ma quasi come McGuffin, nel senso che le danno una grande importanza, ma in realtà è solo un pretesto per far partire la trama e tutto quello che ne consegue, però è interessante perché ha una sua importanza comunque. mi piace come la stanno usando la Drops, mi piace quello che rappresenta, perché comunque è ciò che serve al pinguino. Mi piace il fatto che lo leghino a doppio filo al concetto della Drops, anche perché chi ha letto i fumetti poi è contentissimo perché è pieno di riferimenti ai fumetti, la Drops, il fatto che a un certo punto ci sia Maroni, che ti citino tutti gli affari della famiglia Falcone e credo che questo sia solo l'inizio, penso che mano a mano che si va avanti inseriranno sempre più riferimenti. Ovviamente noi sappiamo poco di questo mondo, nel senso che noi abbiamo visto The Batman, questo è l'unico altro prodotto che ci va ad esplorare, ci va ad espandere questa Gotham City, questo mondo DC che non c'entra niente con quello che stanno facendo Gunn e Safran con il DCU, è proprio un'altra cosa, è un Elseworld, è un universo alternativo, è un altro universo sostanzialmente, quindi noi ancora non è che sappiamo molto per cui io non so bene che cosa aspettarmi, non è che io sappia dirvi chi mi aspetto di vedere, perché magari uno pensa potrebbero esserci altri villain in una forma diciamo primordiale che so magari a un certo punto incontrano uno che è Edward Nygma ma non è ancora diventato l'enigmista per dire, sto ipotizzando io, secondo me non ne mettono altri, la mia speranza, la cosa che mi piacerebbe tantissimo, siccome c'è Sofia che è stata ad Arkham e siccome nel trailer ci sono delle scene in cui ti fanno vedere lei ad Arkham che ancora non sono state mostrate, mi aspetto che magari inseriscano qualche easter egg in la Goduria Suprema sarebbe se ci fosse anche solo una scena con il Joker di Barry Keoghan che abbiamo solo intravisto in The Batman si vedeva leggermente di più in quella scena tagliata che poi non hanno inserito non che io me lo aspetti però la speranza è l'ultima a morire quindi ci sono sicuramente tanti riferimenti ai fumetti e vi dico per me se il livello delle altre puntate è questo siamo veramente a cavallo siamo veramente a cavallo perché francamente non vedo loro ovviamente uscirà una puntata a settimana e vi ricordo che è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Nao per cui ce la si può godere tranquillamente e io quello che posso dire è guardate il primo episodio se ancora non l'avete fatto se avevate magari qualche dubbio fugate ogni singolo dubbio che avete perché questo primo episodio è eccezionale ti introduce alla grande il personaggio e la cosa che mi piace è che nonostante lui sia di fatto un villain riesci comunque non dico fare il tifo per lui ma fartelo stare simpatico come protagonista cioè non approvi quello che fa ovviamente perché il senso della serie non è giustificare il pinguino nelle sue malefatte è raccontarti di questo cattivo e della sua ascesa e quindi riescono a farlo senza buonismi e senza rendertelo buono perché adesso c'è questa idea che se tu fai un prodotto su un cattivo non può essere cattivo in toto devi empatizzare perché altrimenti non puoi avere un protagonista che è anche un antagonista figurarsi no qui invece hanno deciso che il protagonista è un antagonista e sarà uno dei più grandi antagonisti di Batman e lo è sempre poi può essere può essere un personaggio affascinante quello che vuoi può farti ridere però comunque è un cattivo e lo è in toto non cercano di farti empatizzare con lui non cercano di farti dire però poverino però qui no il cacchio è proprio quello che è è un cattivo e deve essere così e io spero che per tutto per tutta la durata di questa prima stagione rimanga così la situazione per ora per me assolutamente da guardare per cui adesso faccio un po' di spoiler se non avete visto la prima puntata di The Penguin non proseguite mi raccomando con la visione di questo video e adesso vi dico che cosa mi è piaciuto allora innanzitutto io ho amato alla follia l'introduzione di lui che si vede con il figlio di Falcone il quale lo pizzica diciamo mentre lui era andato all'iceberg lounge a prendere a prendere delle cose che gli servivano però questo qui il figlio di Falcone va lì e lui inizia a parlare ed è bello perché qua c'è una tensione incredibile perché comunque ci sono questi campi contro campi in questo dialogo di loro due seduti che ti fa capire che Oz è assolutamente a disagio ha paura ha paura che il figlio di Falcone sospetti che lui voglia fare qualcosa parlano di questa drops dicendo che il figlio di Falcone parla di qualcosa che cambierà completamente il mercato della droga qualcosa che darà potere alla famiglia Falcone più di quando c'era a capo Carmine e però cosa fa inizia a sfottere Oz a ricordargli che lui comunque non deve allargarsi che di fatto è un topo di fogna è l'ultima ruota del carro ed è lì a quel punto che a livello registrico questa scena è fatta molto bene ed è veramente tanto alla il soprano questa è proprio una cosa tipica in un secondo sembra quasi un duello alla leone anche perché comunque tu vedi questa situazione di tensione pensi succederà qualcosa di brutto ma che cosa e il figlio di Falcone dice una cosa in più e lui per tutta risposta Oz gli spara proprio a bruciapelo da vicino mentre sono in poltrona e io lì sono saltato sulla sedia e ho detto oddio perché non pensavo partisse subito a bomba da qua parte tutto perché lui deve occultare il cadavere e ci sono sti ragazzini che gli vogliono rubare la macchina tra l'altro questa macchina sportiva viola anche il fatto che abbia questi gusti molto tamarri in un certo senso cioè lui non è uno a cui interessa passare inosservato tra i cattivi di Batman il pinguino è quello più particolare perché laddove gli altri stanno più nell'ombra sono più subdoli il pinguino ha sempre avuto un ego smisurato e quindi il pinguino ha sempre goduto nello stare in vista cioè lui non interessa a non sembrare un criminale solo che nelle altre opere lo vedi col cilindro il monocolo la sigaretta col bocchino il frac la camicia col panciotto qua invece è una versione più contemporanea non ha tutte le caratteristiche ma lo vedi cioè a parte che c'è la cosa dell'iceberg lounge già lì è un bel riferimento c'è la gente Batman poi la cosa della macchina sportiva il fatto che abbia questa macchina così sgargiante è un ottimo modo per rappresentare il pinguino in una versione più contemporanea perché perché lui ha anche il fatto che preferiscano chiamarlo Oz Cobb ok che è più il diminutivo del suo nome del suo nome cognome è interessante gli dà un'identità un po' più secondo me moderna e quindi il fatto che abbia la macchina sportiva sgargiante è quella roba lì cioè a lui non gliene frega niente di passare inosservato nonostante lui abbia in mente di ribaltare la situazione di prendere il possesso della famiglia cioè lui sta facendo una roba veramente subdola sta perché poi lui prende l'anello del 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 figlio di Falcone e quell'anello è importante ok quell'anello è importante e poi va da Maroni quale lo schifa perché lui aveva tradito quindi lui parte parte la persona che ha tradito la famiglia e quindi lui dice guarda io noi potremmo allearci ma Maroni non vuole ma tra l'altro mi piace tantissimo come l'ha fatto in carcere con la barba lunga i capelli allungati perché comunque come se si fosse lasciato andare come se fosse in depressione e lui fa tutto questo discorso in cui insomma Maroni dice tu io di te non mi fido quindi come ti permetti di venire qui cioè hai veramente fegato a venire qua da me e lui prende l'anello e gli mette qui fa a proposito ti ho portato questo e se ne va quindi lui sta iniziando a mettere contro tutti perché poi va dal consiglio della famiglia Falcone e inizia a proporre la questione della drops ma c'è Sofia che lo sente e dice questa è un'idea che ho già sentito da qualcun altro da mio fratello che tra l'altro non si vede da ore ma tu sai dove può essere Sofia è l'unica che sospetta subito di lui fanno anche questo discorso a un certo punto in questo ristorante con lei che spiega delle difficoltà che ha avuto e che non si fida di lui e lui è anche bravissimo perché lui dice ma ti pare che io sono così stupido da fare qualcosa a tuo fratello cioè io lo so qual è il mio posto non ti preoccupare so perfettamente che non posso aspirare a più di questo però in realtà lei non si fida e secondo me la cosa bella della puntata è che lui quando sta scaricando il cadavere del figlio di Falcone incontra questi ragazzini a cui spara e spara anche la sua macchina perché questi gli stavano rubando le gomme stavano i cerchioni comunque stavano facendo qualcosa alla macchina l'unico che non riesce a scappare è proprio questo Victor che lui prende con sé gli dice adesso guidi e andiamo a liberarci di questo cadavere a un certo punto lui sta per ammazzarlo quindi già il fatto che il protagonista sia uno che non si sta facendo problemi ad ammazzare un ragazzino che non ha fatto niente praticamente sono un ragazzetto sbandato ti fa capire quanto è subduro e cattivo ma il ragazzino riesce a rendersi indispensabile dice io posso imparare posso aiutarti allora lui sfrutta questo ragazzino capisce che ha bisogno di qualcuno di cui fidarsi perché nel suo ambiente nessuno si fida di lui né tantomeno lui si fida degli altri e allora quale modo migliore per avere un fedele alleato di prendere sotto la propria ala da un ragazzino spaventato che non ha contatti con la mala e che non lo tradirebbe mai e lui gli fa anche pesare il fatto che va bene io non t'ammazzo però come dire sei vivo grazie a me e il rapporto che si sta creando tra i due è molto interessante anche perché già in questo primo episodio Vic si rende estremamente utile perché esegue gli ordini che gli dà Oz in una maniera impeccabile perché a un certo punto Sofia prende Oz il pinguino lo porta in questo posto abbandonato e inizia a torturarlo la scena della tortura è pazzesca perché laddove il personaggio di Sofia era stata lei era molto compita molto compassata molto guardinga lì capisci perché è andata ad Arkham perché è completamente pazza lo sta torturando lo stava per squartare ma in quel momento una macchina si schianta sullo stabile aprono il bagagliaio e c'è dentro il cadavere figlio di Falcone con un messaggio che sembrerebbe ricondurre alla famiglia Maroni quindi cosa ha fatto in questa puntata Oz sta mettendo sulla scacchiera le pedine per creare una guerra tra gang di cui lui sarà l'unico beneficiario del risultato questa puntata a me è piaciuta proprio per questo perché fa tante cose ti introduce il protagonista approfondendolo rispetto a The Batman ti fa vedere il rapporto con la madre questa madre lì così poi iniziano a parlare come stai figlio mio e a un certo punto hai fatto qualcosa di sbagliato hai fatto qualcosa di sbagliato hai fatto qualcosa di sbagliato sì dai che cosa hai fatto dilla mamma ho ammazzato il figlio di Maroni la madre rimane così e però li metti in queste situazioni però adesso tu devi cercare devi cercare me l'hai promesso mi hai promesso che mi avresti fatto cambiare vita io ero lì che dicevo ma come? cioè sembrava un rapporto quasi da mamma del sud al figlio no? questa donna di una certa età che parla del figlio che è tutta fiera del figlio quasi tu hai cioè è ovvio che hai fatto apposta vogliono quasi metterti il dubbio che lei non sappia cosa fa suo figlio quando il figlio se ne esce con la confessione c'è quel secondo di silenzio perché tu pendi dalle labbra la conversazione del passaggio quel secondo di silenzio che ti fa pensare io lo dice così e lei che gli risponde dandogli manforte perché lei sa perfettamente cosa fa il figlio però è bello che ti mettano quel dubbio questa è proprio è proprio quell'umorismo a lei soprano quando io ho detto dal trailer mi dà qualcosa di soprano avevo ragione perché almeno in questa puntata l'umorismo sulla criminalità organizzata sulla mafia è quella roba lì molto simile poi ovvio non c'entra molto ma il tono me l'ha ricordato tantissimo e a me questa cosa piace io quando vedo queste cose impazzisco e per appunto lui stace perché poi adesso lui ha la fiducia di Sofia perché giustamente mentre questa lo torturava ok è una scena non troppo violenta tra l'altro violenta è il giusto perché comunque non è una serie che vuole essere troppo esagerata ma essendo una serie gangster ci sono morti ammazzati colpi di pistola col sangue che schizza quello per forza però non si va mai troppo oltre perché comunque non è quello l'obiettivo della serie a me piace tantissimo il fatto che abbiano voluto dare questa connotazione molto alla gangster movie anche se è una serie però con quell'ironia di fondo a volte anche macabrissima ok perché comunque il fatto che lui è lì che viene torturato poi si salva perché ha detto al ragazzetto di mettere il cadavere nella macchina di far schiantare la macchina contro lo stabile in modo che lui viene salvato e lo scaggiorano non il sospetto perché cazzo lui è lì è più facile credere che siano stati i rivali piuttosto che credere che è stato lui grazie a questo ragazzino perché perché Oz il pinguino ha una vantaggio rispetto agli altri l'unica persona che sa di cosa sia veramente capace è Sofia l'unica che lo ha braccato dall'inizio e che aveva capito che aveva fatto qualcosa a suo fratello ma lui è stato più furbo era due passi avanti e quindi adesso anche Sofia non ha dubbi sul fatto che non possa essere stato il pinguino per cui lui adesso è riuscito a togliersi l'unico 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 vero problema che gli impediva di portare avanti il suo piano è questo il fatto lei ci è cascata perché è stato molto bravo lui è stato molto subdolo lui questo è interessante mi piace l'idea che lui sia così che lui sia così subdolo che lui sia così che orchestri tutte queste cose peraltro senza coprire così bene le sue tracce perché comunque tutti gli altri gli danno il vantaggio di dirgli tanto tu sei un coglione lui non è un coglione questo è il fatto Sofia l'ha capito però lui è riuscito a sviare i sospetti dell'unica persona che avesse capito quanto lui sia pericoloso perché gli altri lo vedono come sì quello che ha tradito ha fatto cose è un povero idiota ma lui non è un povero idiota lui è subdolo sappiamo che diventerà il pinguino re della criminalità di Gotham ed è bello vedere questa scesa e vedere che il personaggio ha questa intelligenza perché tu non lo fai così intelligente anche se già in The Batman ti facevano capire che lui non è uno sprovveduto era quasi più macchiettistico in The Batman ma secondo me aveva fatto apposta qua invece mantiene un po' la connotazione da macchietta perché il personaggio deve essere così cioè apparentemente deve sembrarti una macchietta poi però ti fanno vedere che non lo è affatto e che forse fa un po' lo stupido per non andare in guerra come si suol dire quindi per me questo è stato veramente un grande episodio cioè io nel guardarlo ci sono proprio rimasto ero proprio estasiato bella la colonna sonora bello tutto la regia la fotografia ci sono dei movimenti di macchina nella scena in cui lui sta scaricando il cadavere che lo vedi che fa fatica anche quella cosa lì ironica lui sta scaricando un cadavere ma è lì che sbuffa e in più gli stanno rubando la macchina che a me a un certo punto mi è venuto in mente mi stanno rubando l'autoradio perché vuole essere comica come scena ok vuole essere comica lui che ha appena ammazzato questo l'ha ammazzato per impulsività perché lui non voleva ammazzarlo lì e in quel momento lui lo voleva fare ma lo avrebbe fatto probabilmente in un altro modo solo che questo ha colto nel vivo tu sei un topo di fogna tu fai schifo tu non sei nessuno lui ha un ego troppo grande lui si sente già il re della criminalità e sa che quello è il suo destino quindi quando qualcuno lo mette in dubbio e mette in dubbio le sue capacità lui dà di matto e quindi questo lo ammazza subito e allora dopo è lì che sbuffa perché il cadavere con i ragazzini che stanno bucando che stanno cercando di rubare insomma di fare delle robe alla macchina è lui che spara e spara anche la sua stessa macchina non gliene frega un cazzo con questo povero ragazzino lì che pensa ma chi cazzo è questo che si presenta con un cadavere a momenti sotto braccio e che si mette a fare il far west con la pistola cioè lì si rende proprio conto Vic che hanno preso la persona sbagliata perché tra l'altro lui il pinguino secondo me sono stati bravi a renderlo feroce ma non squilibrato perché lui non è in realtà non è squilibrato rispetto a altri villain di Gotham City lui è molto lucido mentalmente è che è un cane sciolto e mi piace questa versione lui cane sciolto quindi hanno fatto un ottimo lavoro ed è stato bravissimo con l'infare che tra l'altro per me non vedeva l'ora cioè si vede proprio che si è divertito al di là della questione del costume eccetera si è proprio divertito tantissimo cioè si vede che godeva nel capito nel nel fare tutto questo quindi è proprio un primo episodio che secondo me è eccezionale quindi adesso per me Oz e e e Sofia Falcone si alleeranno Oz porterà avanti la faida tra le famiglie e io non credo che l'ascesa la vediamo già in questa stagione però staremo a vedere però appunto secondo me anche Vic avrà un ruolo importante io non credo che sia che sia si gioca che sia Robin secondo me salta fuori che è qualcun altro cioè per me è un personaggio noto sotto mentite spoglie sono convinto di questo ma non vi saprei dire ancora mi verrebbe io ce lo vedrei bene se diventasse uno dei poliziotti perché questo secondo me non è uno dei villain per me è qualcun altro potrebbe essere addirittura anche Allen per quanto mi riguarda perché comunque è un personaggio abbastanza importante secondo me è lui per me per me si salta fuori che poi è Allen però magari mi sbaglio ed è veramente il prossimo Robin ma secondo me potrebbe essere lui sarebbe bello perché comunque anche in alcune storie dei fumetti ti dicevo che lui aveva avuto una giovinezza un po' sbandata poi ha messo la testa a posto quindi non sarebbe male se il protettore e il pinguino diventa poi uno dei poliziotti più apprezzati di Gotham ecco un personaggio che magari non tutti tutti conoscono perché non è mai stato molto era in Gotham nella serie Gotham non è mai stato molto utilizzato nei film è un personaggio secondario e anche nelle storie fumetti non è quello che compare di più però a me piace un sacco perché è un po' basato sullo stereotipo del poliziotto nero vedess dei buddy movie ha un po' quella connotazione lì nasceva un po' così quel personaggio nei fumetti quindi per me potrebbe essere Allen mi sbaglierò staremo a vedere staremo a vedere quindi sono molto molto curioso di vedere come proseguirà il tutto perché ancora è difficile teorizzare molto ma secondo me anche questa cosa di Maroni io penso che io credo che lui farà una una scalata inversa secondo me a un certo punto uno si aspetta che prende in possesso la famiglia Falcone magari poi invece passa di nuovo ai Maroni per poi tornare dall'altra parte come fa il giro largo bisogna anche vedere quanto ci vogliono raccontare in quanto ce la vogliono raccontare una stagione due stagioni bisogna vedere dipende stare fatto che io personalmente sono contentissimo di come sia partita questa questa prima puntata per cui se non l'avete ancora vista recuperatela naturalmente in streaming su Now è in esclusiva su Sky insomma mi raccomando date un'occhiata perché a mio modesto avviso è stato un inizio pazzesco ed è una serie che promette tanto e per me è già in rampa di lancio se il livello è questo per essere una delle serie più intriganti di quest'anno bisogna vedere come continua ripeto io potrei anche vedere come continua ma stoico vi voglio portare i video settimana dopo settimana e quindi rimango fedele alla messa in onda regolare per cui io vi abbraccio ringrazio ancora Sky per avermi chiesto di collaborare l'ho fatto molto volentieri perché per l'appunto dopo aver visto l'episodio ho detto subito ok vai perché mi è piaciuto un sacco per cui grazie ancora io vi abbraccio vi ringrazio grazie per aver seguito tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo e noi ci vediamo Grazie.